Ragazzoli belli, benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Oggi ragazzi vi propongo un video e un gioco diverso dal solito che non avete mai visto sul mio canale. Stiamo parlando ragazzi di Apex Legends. Considerate che ad Apex l'ho riscaricato due o tre giorni fa all'incirca e mi sono da subito messa a fare le ranked. Devo dire che è un gioco che mi piace particolarmente perché premia tantissimo comunque l'abilità del giocatore, la mira, il tracking e tutti i vari movimenti e i posizionamenti all'interno del gioco. Quindi devo dire sì che è un gioco molto molto bello e richiede molta abilità. Considerate che ho iniziato a fare le ranked appunto da due giorni, dal giorno in cui l'ho scaricato. E in questa partita che andate a vedere appunto in questo video abbiamo fatto 25 uccisioni di squadra che su Apex sono tantissime. Ok che il livello di skill non era sicuramente troppo elevato dato che comunque avevo appena iniziato a fare le ranked. Però comunque da questo video potete notare comunque la mia abilità nel mirare, nel sparare alla perfezione ai giocatori e adesso sto migliorando sempre di più. Quindi niente ragazzi se questo tipo di video, questo tipo di gioco dovesse piacervi sicuramente continuerò a proporvelo sul mio canale. Ovviamente fatemelo sapere commentando qui sotto in questo video e ovviamente lasciando un bel mi piace che aiuta sempre il mio canale. E quindi niente ragazzi godetevi questo fantastico video e una buona visione ragazzi. Io per vedere la barca. Vai vai andiamo o no? Ce la facciamo d'acqua sì, si ha voglia. Sì sì. Trattenete il respiro se dovete proprio respirare. C'è un team sicuro? No ma si ha più di un team. Vogliamo sbicciare? Non so dove però. No no andiamo andiamo. Ma ma sai questi vanno qua? Mi sa. C'è un team sicuro? No c'ha da Bright. Ma vienesco subito che si non rompe le... Arriba Nox arriva. L'ho crancati, l'ho crancati. Si è buttato uno. Sono lui eh. È Lifeline che si è buttata sotto. Avete cure per la vita? No. No. Con l'ombo mi sa a terra quello. Eccolo. Ecco. Questa volta sono io a terra. Non ho scato un altro. Ma sopra? Ah 4 HP per i ct. Morto. Ah 3 arrega. Giù. Non ho scato un altro. Ma chi ne manca la Wafu? Eh dietro dietro ci sta molta gente. Vai resta. Morto. One shot ok. Altri altri nera. Non ho pure. Da me? No. Porto un altro. Porto un altro. Dai. C'è un ultimo lì. Arrivo arrivo. Sei da solo eh. Sta restando. Sta restando qui. Mi tiro uno shield e salgo. Salgo. Morto morto. Mancano solo 30 secondi. Ma sono non da che... No no c'è un altro. Ancora? Sono due a terra eh. Arrivo. Sono a terra e c'è l'ultimo. Ricricando gli scudi. Non ci. Proprio qui. Sta restando. Sta restando. Dead. Eh. Let's fucking go guys. Mamma mamma mia. C'è un casco blu? Qui c'è un casco. Livello 2. Ok raga se volete andiamo alla camera blindata e ci fuliamo per bene. Guarda andiamo andiamo. Perché ho la chiave. E niente ce ne usciamo 10 kill. Io ho uno ma che schifo. Come se nulla possa. 5 più 4 più 1. Davanti a noi c'è gente. Davanti a noi c'è tutta questa roccia. Andiamo sopra il tetto. L'ho cagato. È rosso. L'ho cagato. È giallissimo. Mamma mia. È corta? Ha one shot? Ma non ci credo. Quello era l'ultimo. Un'altra squadra eliminata. Andiamo a vedere cosa contiene. Ma è una gioia. Neanche una gold. Neanche una viola. Ne è già. Ma è una gioia. Neanche il c***o dentro c'è. Eh. C'è. Quapo. Questa è voglia improvvisa scusami. Eh me ne chiedo scudo. Ok. Ma questa era la partita per ferma. Faccio il tp eh. Per le 20 kill. Segui il tunnel. Stanno giù. Granata termite lanciata. Lancio granata termite. Stanno a prendere tutti. Stanno a prendere tutti. Stanno a prendere tutti. Stanno a prendere tutti. E' via. Cajato. Un imico. Abbattuto. Un in allati. one all 2018. Paola. Quella la guerra. La guerra l'ha. La guerra. Ha. E' via. Andiamolo a chi merita. Ma vedi questi beimi infatti. Vabbè dai Ne hai fottute due Ne hai fottute Sì tua zia col cerchiettino No no l'ho fatta io due Io solo uno non ho preso Infatti Allora grazie Grazie Stabilizzatore di canna Vrenavo alla mente che bacca non c'è Oggi c'è Quappo noi siamo sopra Vedi ah Sì sì arriva Rotto uno Non vado Ho abbattuto un nemico Mortto Vesaglio eliminato Siamo già dentro l'anno Arriviamo Sei giù Sì Ah bella signora Ah ok Ora incominciamo a capire Sì grazie Andiamo a prendere il troppo Magari c'è un mastiff Vogliamo proprio riempirci Sì sì vado io tanto Ingozzarci Auguri L'ho preso? No l'ho preso Oh l'ho preso Una lube un po' strana La nuvola di fantozzi La chiamava Oh il mastiff mio Questa è finta Rega ve lo dico L'aveva collata ragazzi L'aveva collata Eh i cheat quelli belli Ecco Dobbiamo prendere un altro airdrop Doppio mastiff Sì Ah natal Ne voglio pulire allora uno Ok va bene Guardiamo Chi ha sparato? Io no Io no Eh nemmeno io ragazzi Stramamente uno che c'ha l'R99 Chi può essere? No te lo giuro su Cristo Ho sparato io Ah hai visto? Infatti che dicevo di te Mio dicevo di marti Eh sì 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 Sicuramente Ho appunto qua Sfatta Ah sono full Eh pure io Allora lei lo prendo Addio C'è le scudo Sento c'è qui dentro Qui dentro Qui dentro In questa casa È blu questo ancora Blu A sinistra Mettiamoci in casa Mettiamoci in casa Che ci vanno tutti i pacchi Attenzione Granata Sento c'è qui dietro Wap 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 Devi entrare Sto ieri Altri di voce Non si è riuscita Rotto 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 anch'io rotto anch'io rotto anch'io rotto anch'io Eh aspettate però rega Poi è un po' È rosso 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 Fu rosso Fu rosso Io vado di massic Allora Francato Crancato È buonissimo quello lì No gioca Sta pusha di massic Ragazzi Tutte i tre di me qui Tutte i tre Tutte i tre di me Di με Tutte i tre di me Ma c'era una volta C'è l'altro dietro, giusto? Mamma, sai che è da solo l'ultimo? Ah, sì Ma dove sta camperata, eh? Yo, brother, where are you, my friend? Facciamo a pugni se lo vediamo Va bene Buttiamo la corazza No, sei pazzi tu? Sì, sì, grazie Passi Yo, bro Ah, sta qua, sta qua Non gli sparare, devi agli sparare No, incazzanissimo No, butta là in una terra Butta e ti beccano Fata pugni Cazzotti, fatto? Yo, bro, you're really good Oddio No, mio Dio Vabbè, questo è disrespetto tale, ragazzi Però, dai Politically uncorrect Ma, ma che l'abbiamo fatto? Troppe, troppe Io avevo divo 9, mi sa Troppe, troppe Io tipo 6, più 6 assist Mi hanno fatto 20? Siete ieri Guardi, mi perseranno già Pollice di su, ragazzi 25, raga 25, ci sono gli squadri Abbiamo fatto Orca miseria A meno che io le faccio più danni a WAP Come mai? Mi dissojo Ma puttapò I have to work with him The V5 Sarge, I need to sarge Non, 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 non